Sono circa 900 piante di acero campestre che abbiamo messo, quindi piantine nuove che andranno a rafforzare sul terreno, rafforzare anche il terreno stesso dell'acciclabile e a creare questo corridoio verde alle atelier dell'acciclabile. Si sono conclusi i lavori di piantumazione delle siepi lungo l'acciclabile che collega Strada Gogna al Parco Retrone, una scelta di realizzare barriere verdi per essere in piena sintonia con il contesto agricolo di questa vallata a ridosso dei colli berici. Le piantine d'acero, alte 80 centimetri e messe in dimora su entrambi i lati dell'acciclabile, sono state impiantate lungo un tratto di 160 metri, in aggiunta al primo tratto di 70 iniziato nel 2019. Si è scelto una varietà rustica di buona struttura capace in breve tempo di realizzare una quinta verde molto resistente. Questa nuova barriera è stata realizzata infatti in sostituzione delle staccionate, che erano state brutalmente abbattute e danneggiate dai vandali. Un punto d'onore è quindi ripristinarla adeguatamente. Abbiamo mantenuto la promessa che avevo fatto anche in Consiglio Comunale. Quella ciclabile aveva subito un grossissimo atto di vandalismo dove aveva danneggiato tutta la staccionata che metteva in sicurezza la ciclabile stessa. Abbiamo fatto una scelta molto particolare, quella di sostituire tutta la staccionata vandalizzata con siepi. Quindi l'intera ciclabile, in piena sicurezza, avrà a ambo i lati dei siepi a protezione dei ciclisti. Una scelta green, voluta, sposata dall'amministrazione, che si sposa con tutta la linea che stiamo portando avanti in questo momento.